Io l'avevo già detto ai Giardini della Rotonda poco tempo fa e quindi non capisco perché si vuole insistere ancora su questo tema. Abbiamo approvato una mozione del Consiglio Comunale, la mozione è estremamente chiara, le mozioni sono atti in indirizzo alla Giunta da parte del Consiglio Comunale quindi non capisco perché questa associazione continua a voler fare su spazi pubblici, lo faccia su spazi privati, su spazi pubblici un'attività di questo tipo cioè di lettura di libri che peraltro non saranno introdotti nelle scuole perché ne ho parlato anche recentemente sia con i presidi sia con il provveditore non è previsto che nella provincia di Padova vengano introdotti libri che parlino di gender ai nostri bambini nelle scuole quindi mi sembra incredibile che si voglia ogni volta tentare di bypassare quelle che sono decisioni già prese da parte dell'amministrazione.